Quattro defibrillatori sono stati donati dal Rotary Club International, distretto Sicilia-Malta, club di Vittoria, quattro scuole della città Ipparina, la cerimonia di consegna dei defibrillatori avvenuta nella mattinata di oggi a Sala Mandarà, alla presenza delle autorità rotariane dei presidi delle quattro scuole indicate, vale a dire Istituto Mazzini, Marconi, Fermi e Cannizzaro. La donazione di tale strumentazione rientra tra gli obiettivi che il Rotary Club si prefigge, cioè quello di estrada supporto nelle comunità in caso di bisogno. A spiegare il progetto il presidente del Rotary Club di Vittoria. Noi vogliamo donare a quattro istituti superiori di Vittoria, Marconi, Mazzini, Cannizzaro e Fermi, questi defibrillatori. Di norma quando si fa un regalo è quello che venga utilizzato il più possibile, l'augurio invece che faccio è quello di utilizzarli il meno possibile perché significa che i ragazzi e gli studenti sono di buona salute. Ci auguriamo che questo progetto possa andare avanti e proseguire negli anni futuri in modo tale da poter donare anche alle società sportive e altri enti dei defibrillatori. Soddisfatti i dirigenti degli istituti scolastici. Hanno dimostrato una grande sensibilità nei confronti degli operatori scolastici, direi della cittadinanza in generale. Ho avuto modo di ringraziare quale rappresentante legale gli organi direttivi del Rotary Club. Sicuramente sono sempre presenti nel territorio per quelle iniziative che tendono a migliorare la qualità della vita della comunità. E' il mio vivo apprezzamento per la loro generosità e per la loro sensibilità.